Fratelli carissimi, questa sera io sono molto felice e grato al Signore perché fa bene tutte le cose. Oggi ha pensato per Marco la prima comunione in questa festa così importante del nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, che è un pochino il sigillo su tutto l'anno liturgico. E oggi per molti di noi questa festa, questa parola, questa festa è un segno, un sigillo sulla nostra vita, sulla vita di tutti noi. Quelli che siamo qui abbiamo bisogno di questo sigillo a fuoco nella nostra vita, tutti, nessuno escluso. Perché oggi viene il Signore e viene a cercare le sue pecore per averne cura. Come un pastore che passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle pecore che erano state disperse. Lui le conduce, lui le cura, le fascia, ha un amore infinito, le sue pecore. Sapete cos'è questo? Questa è l'evangelizzazione. L'evangelizzazione che va a cercare le pecore del Signore nel mondo, dove sono disperse, sperdute. Per questo, per questo il Vangelo oggi, parla di un giudizio. E parla di un giudizio che è riservato alle nazioni, cioè a coloro i quali non conoscono a Cristo. Il giudizio riservato ai cristiani è quello che abbiamo celebrato qualche giorno fa, la parabola delle vergini. Questa parola di oggi descrive il giudizio di tutti quelli che, come appare chiaramente nel Vangelo, non sono stati battezzati, non hanno avuto un'iniziazione cristiana. Tutti quelli che non sono entrati nella Chiesa. Quando mai ti abbiamo visto? Chi ti conosce? Non ti abbiamo conosciuto. E come arriva al mondo il pastore, attraverso i fratelli più piccoli, gli apostoli. Tutto nella vita di ogni uomo si gioca nell'accoglienza o meno del Vangelo, che arriva in milioni, milioni, milioni di forme. E arrivano anche a noi questa sera, attraverso i fratelli più piccoli, cioè attraverso gli apostoli, che annunciano la più stolta delle notizie, la più tonta, che tu sei amato da Dio, che tu sei amato così come sei. Capito Marco? Capito Marco, la cosa più importante, unica, fondamentale nella vita è questa, che Dio ti ama, che Dio non smette mai di amarti, che Dio mi ha dato il suo figlio, Gesù, per te, per me. Ha dato la vita per te, perché tu vali, tu sei importantissimo per lui, tu sei una sua pecora, tante volte nella vita sperimenterai cosa vuol dire essere disperso, come le pecore, le pecore devono andare nel greggio, se non vanno nel greggio, niente, subito si perdono, finiscono in mezzo ai burroni. E succederà questo nella tua vita, come è successo nella mia, come è successo nella vita di tanti fratelli, vero? Ecco, ma burroni proprio di quelli, capito, ferite, 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 che tu vedi che là neanche le zampe più si vedono. Immaginatevi una pecora, tonta, ma proprio tonta, perché le pecore sono tonte, ma questa tonteria delle pecore è la semplicità di chi tante volte ascolta la voce di un altro pastore e si lascia sedurre da parole menzognere, da parole false, che promettono felicità, promettono potere, prestigio, godimenti. Il demonio ti promette che tu sarai, che tu varrai, che tu conterai. Ma questo vale anche per gli anziani, eh? Non è, no, io ormai no, no? Pensa un po', se tu, pensa al rapporto che c'hai con la nuora, pensa al rapporto che c'hai con il genero, pensa al rapporto che c'hai con quello che abita vicino a te. Ma io ho 90 anni, ha 90 anni? Ammazza. Se la voce del demonio arriva più forte, più forte, perché si avvicina al momento del passaggio al cielo e stringe con più violenza per strapparti il Signore dal cuore. Immaginate le pecore, una pecora perduta, immaginate, tutta ferita, lacera, che neanche ha voce per... che neanche può gridare, neanche può lamentarsi. Sta lì, in un burrone, buttata lì. Eccola. Agnello. Davanti al quale si copre la faccia. Non aveva neanche aspetto di uomo. Dava a vomitare, capito? Non si poteva vedere. Un crocifisso, un crocifisso, era qualcosa di terribile. Per questo si crocifigevano fuori dalla città. Anche i romani, che infliggevano questo supplizio terribile, sapevano che era così scioccante. Se la mettevano fuori. La pecora perduta. Lui si è fatto pecora per te. Lui è sceso dove tu ed io siamo precipitati. Lui è venuto a prenderti là. Non ha aspettato che tu dicessi adesso vado, adesso mi impegno, adesso mi sforzo, no? È venuto lui a prenderti lì dove tu sei. Con i peccati peggiori. Con i giudizi, le mormorazioni, gli omicidi. Che portiamo tutti nel cuore. Tutte le ferite, le zampate del demonio. È venuto a prendere tutto. E ti ha abbracciato, ti ha stretto. Sapete, nella tradizione ebraica già c'era il re pastore. Un popolo che conosceva molto bene la pastorizia. Un re pastore. Tra l'altro i pastori, i pastori, per questo appaiono nel Vangelo del Natale, i pastori non erano considerati puri. Erano mal visti in Israele. Perché toccavano la pelle degli animali. Perché erano il sangue. Erano al contatto con l'impurità. Erano nell'ultima parte della società. Per questo l'angelo appare a loro. Appare ai piccoli. Appare agli esclusi. Appare ai peccatori. Non appare al Tempio di Gerusalemme. E' un gran sacerdote con l'Ephod. Lì che lui capiva tutto. Precava, faceva. Capito? Sacrifici, sacrifici, sacrifici. E' apparso l'angelo ai più piccoli. Andiamo verso il Natale. Andiamo verso il compimento di questo giudizio. Si compie per le nazioni. E si compie per la parte pagana tua e mia. Che abbiamo dimenticato tante volte a Cristo. E che possiamo oggi convertirci, salvarci. Riconoscendo la sua voce. La voce del pastore che ci annuncia il suo amore. Attraverso questa predicazione. Attraverso la Chiesa. Attraverso gli ultimi della Terra. Salvati e inviati al mondo come gli ultimi della Terra. Ti dà un bicchiere. Questo è lo sperimento. Nessi fratelli della comunità. Io l'ho visto con i miei occhi. Con Mauro, con Alessandra. Appena arrivati lì. C'era una signora. E lui lo potrebbe dire quante volte hanno trovato persone che l'hanno aiutati. Che poi sono spariti. Gli hanno dato la frutta. Gli hanno dato qualche cosa. E non avevano chiesto nulla. Questi vanno in cielo. Questi incontreranno a Cristo. Diceva quando ti abbiamo visto? Guarda. C'era quella famiglia. C'era quella famiglia. Gli hai dato un po' d'acqua. Gli hai aiutato all'ospedale perché non parlavano la lingua. Io? Quello era Cristo. Questo significa che la parte pagana nostra si può salvare quando viene la moglie e serve il marito e riconosce nel marito, nevrotico, con un carattere che non è sopportabile, un piccolo, un poveraccio, uno stolto secondo il mondo, a Cristo. E lo serve. Quando un marito serve alla moglie, ai figli, oggi, oggi, qui, tra noi, così si può curare la parte malata, pagana, attaccata al mondo, che abbiamo tutti nel nostro cuore, che significa per noi fare la volontà di Dio, significa obbedire a quello che oggi il Signore mi dice e mi dice che sono amato. Mi dice di accogliere questo amore, mi dice di lasciarmi giudicare dal suo amore, dalla sua misericordia infinita, dal suo sangue versato per me, dal suo corpo offerto per me, questo che adesso, per la prima volta Marco prenderà e che lo accompagnerà per tutta la vita. L'unica fonte, l'unica fonte, inesauribile, di amore, di pace, di serenità, di perdono. Adesso lui forse capirà lo 0,50%, ma nella vita quello che sta accadendo oggi sarà il suo unico sostegno. Chi mangia Cristo è trasformato in Cristo, fratelli, si allea con Cristo, si allea con il Re vero, con il Re che ha dato la vita per i suoi sudditi, mentre tutti i sudditi danno la vita per il Re, o sbaglio? Allora, oggi io invito soprattutto i nostri ospiti, lo dico nel nome del Signore, nessuno qui è a caso, ancor meno siete a caso voi qui oggi. Alleatevi con il Signore, oggi, oggi, Dio ci ama e ha fatto questo regalo enorme a Marco per farlo a tutti noi. Tutti noi oggi possiamo rinnovare l'alleanza con Cristo. Alleatevi con il Signore, che regni nella vostra vita, che sia Lui ogni giorno a condurla. Alleatevi con Cristo, sapete che significa, per esempio, per voi allearvi con Cristo? Eh? Una cosa facilissima. Veramente, eh? Eh Carlo? Sai cos'è la cosa più facile di questo mondo? Sai qual è? Mo' tu lo dico io. Che dal 15 gennaio, più o meno, in questa sala, tu vieni a sentire una parola per un'oretta. E' per te. E' per te. E' molto serio, eh? Per questo siete qui questa sera, eh? Anche te, Ornella. Fa freddo? No, non fa freddo per niente. Ti preoccupa. Eh, parte l'aula e va a compagna. E ti viene a prendere tutte le sere. Guarda che va a cambiare la tua vita, ti vai a alleare? Con chi va a toglierti dal cuore la tristezza? Con chi va a toglierti dal cuore quel senso di giustizia, che ti fa così soffrire e che non ti ridà Marco. Stasera celebriamo questa Eucaristia per Tony, un peccato che non c'è Liliana, che sono sette anni, per Giorgio che sono venticinque, venticiotto anni. Scusate, c'ho un po' d'Alzheimer. Per diciotto anni. E celebriamo questa Eucaristia oggi per Sio Marco, eh? Marco? Eh? Per Marco. Che dal cielo intercede anche lui per te, eh, Rornella? Perché tu possa vedere curata questa ferita, che soltanto con lui puoi vedere curata. Non c'è niente. Non c'è passeggiatina dea marina che ti può curare la ferita. E anche te, come tu hai ferito, e anche te, eh Carlo? Io ve lo dico molto seriamente. Alleatevi con il più forte. Ci siamo alleati con i deboli e alla fine, eh, Pier Giorgio, alleati stasera con Gesù Cristo e camminerai sull'acqua. Camminerai sopra la morte. Sperimenterete l'amore infinito di questo pastore che non giudica, che non esige, che ha pazienza, che ci prende sulle spalle tutte le volte che non possiamo camminare. Quindi, sempre. Sperimenteremo che, come abbiamo sperimentato noi, in quarant'anni, possiamo dirlo? Dicevi, hai fatto quarant'anni di cammino? No, non l'ho fatto io. Ha fatto il pastore. Noi, sulle sue spalle. Per questo, siamo riposatissimi. Non abbiamo mica faticato in quarant'anni. Qualcuno qua può dire che ha faticato camminando nel cammino? Diteglielo. Non avete faticato niente. Abbiamo faticato peccare. Abbiamo faticato quando abbiamo giudicato. Abbiamo faticato quando abbiamo detto no, non vogliamo seguire. Ma quando ci siamo lasciati prendere sulle spalle, mamma mia, quarant'anni, capito? Erano tutti giovani, io avevo quindici anni. Questi erano tutti i pischelletti dei quaranta. Oggi, un tintinnar di dentiere, che ancora, capito? È un concerto che però, che però a me, a me dà una gioia immensa. perché vedo queste facce, vedo le loro storie, mi viene da piangere, perché vedo la fedeltà che Dio ha avuto con tutti. Giorno dopo giorno. Questo è il nostro re. Questo è il sigillo che viene a mettere oggi con il suo corpo e il suo sangue. E questo è quello che va a iniziare oggi con Marco. Marco, devi leggere, quando c'è un po' più grande, devi leggere Il Signore degli Anelli. Capito? Lo devi leggere, è un mattone così, ma lo devi leggere bene. Poi vedi il film, poi gli reggi il libro e poi rivedi il film. Davvero dico? Perché c'è un re che non fallisce mai. C'è un re che oggi ti dà questo anello per farti una sola cosa con lui. E puoi passare con lui attraverso la terra di mezzo, attraverso tutte le difficoltà, tutte le sofferenze, ferendoti, qualche volta sanguinando, ma senza morirci dentro, passando così, con questo pastore sulle sue spalle. Allora coraggio, vi aspettiamo dal 15 di gennaio, 15 più o meno, più o meno, siamo lì. 15 di gennaio, tu, tontolone, da lunedì a scuola, caschi il mondo, capito? e voi auguri, alleati con il Signore, e tutti noi che possiamo fare la volontà di Dio, che è la cosa più importante, che è la cosa anche più facile di questo mondo. Perché fare la volontà di Dio è stare sulle spalle del re, sulle spalle del padrone. il peccato è che qui non abbiamo l'icona. Avete immagine quell'icona? Se siamo sulle spalle col Signore, io lo penso che ce l'ho nella cappella lì a Takamaz, quando celebro, la vedo sempre, mi piace tanto. Perché è quella gialla, no? Che c'è soltanto il busto e vedi la pecora che sta qui, non l'agnello che sta qui. E penso sempre una cosa, ma se io sto qui, a parte di riposare, a parte di tutto, io guardo dallo stesso livello del Signore. Io guardo le cose come le guarda Lui. Non sto a terra lì guardando solo terra, guardando solo lo schifo, guardando solo le mie debolezze, guardando... No! Io guardo con gli occhi di Cristo, con gli occhi della fede, con gli occhi del pastore, e tutto cambia. Tutto cambia. Allora che il Signore oggi ci conceda di fare rinnovare al termine di questo anno liturgico, pregando per Marco, pregando per i suoi parenti, pregando per questo ospite Pier Giorgio, un ragazzo che è passato dalla Domus e adesso va diretto verso la conversione autentica e pregando per Pedro e Marta che sono oggi qui con noi e che noi abbiamo l'onore di accogliere tutti questi fratelli per dare loro quello che ha salvato noi. Un pochino siamo noi questo pastore oggi per voi. Lasciatevi amare e riconciliare da Dio. Preghiamo per Vera, preghiamo per Giorgio che hanno bisogno di noi, per Lella, che hanno bisogno delle nostre preghiere, anche per Prisca. Vi invito a pregare molto seriamente oggi anche per Prisca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.